Il valore della famiglia, una famiglia unita, un valore che purtroppo oggi con i tempi moderni si è perso, ma che a Caltanissetta la famiglia Riggi continua a portare avanti. Per la quarta volta, per il quarto anno, un torneo di calcio Zii e Nipoti, proprio per voler dire siamo sempre tutti uniti. Questo è il quarto anno, la quarta edizione della partita Zii contro Nipoti, un torneo familiare che nasce come messaggio, principalmente come messaggio. Appunto quello di una famiglia che nonostante le difficoltà, nonostante tutto ciò che può capitare alle famiglie di oggi rimane unita. Tra le tante novità abbiamo numeri in più in famiglia quest'anno, fra qualche mese arriveremo a tre femminucce in più, già una è nata, è mia sorella, ora ne avremo altre due, quindi è una famiglia che continua a crescere, che vuole continuare a divertirsi. Quale migliore occasione del calcio che è da sempre accompagnato la famiglia Riggi. E si vuole appunto in questo giorno, che ripeto è la quarta edizione, anzi ringraziamo il parroco padre Salvatore Romeo, che gentilmente come ogni anno ci concede l'oratorio e il campo da calcio. Appunto vogliamo dare quello che è un messaggio di unione nel concetto di famiglia, che oggi come oggi diciamo è un concetto abbastanza complicato. Un concetto che prima si aggiustavano le cose in famiglia, oggi se si rompono si buttano. Penso sia un bel messaggio da dare, penso che sia anche importante continuare a dare questo messaggio per speriamo tante altre edizioni di questo torneo. Sì, proprio in questo momento siamo riusciti a raggiungere il pareggio, meritatissimo diciamo. I nostri figli ci stanno mettendo in difficoltà, l'età c'è da noi che avanza, però ci stiamo divertendo. Un'emozione grandissima perché vedere giocare questi ragazzi che erano nelle nostre braccia, ora sono diventati degli ometti, giocare proprio col tuo sangue è una cosa bella, molto bella. Siamo contenti e onorati di poter fare questa cosa, ripeto grazie all'amico padre Salvatore che ci vede sempre qui insieme con lui. Grazie a tutti.